I pedoni possono tornare a transitare in piena sicurezza per l'accesso al centro storico di Fossato di Vico che si affaccia sull'antico lavatoio nella porta ad est rispetto all'ingresso principale del castello. Con un finanziamento del governo sono state infatti restaurate le antiche mura urbiche che in questa zona, a causa del pericolo crollo, avevano comportato un'inagibilità dell'area che di fatto è una delle più suggestive del centro, punto d'attrazione in occasione di rievocazioni storiche come la prossima festa degli statuti. Per noi questa è un'opera molto importante perché questa è una delle vie d'ingresso al centro storico di Fossato di Vico e per cui vederlo transennato ma soprattutto avere sempre il timore che il muro potesse crollare perché effettivamente c'era questo pericolo era un grande cruccio. Con questo lavoro abbiamo oltre che ridato lo splendore che merita al muro ha anche permesso l'accesso ai pedoni in sicurezza all'interno del nostro centro storico. Al taglio del nastro tra gli altri la presidente dell'Assemblea Legislativa Donatella Porzi che ha ricordato il valore per l'Umbria di questi piccoli borghi che ne connotano il tessuto urbanistico e il consigliere PD Andrea Smacchi che ha sottolineato l'impegno economico della regione nei confronti del comune Fossatano. È l'occasione di prendere consapevolezza di come si sta riqualificando il nostro territorio e vorrei sottolineare l'attenzione appunto ai borghi un pochino più periferici ma che rappresentano una identità importante per la nostra regione. Sottolineo solamente che in questo mandato la regione Umbria è riuscita a mettere a disposizione di questa città risorse importanti. Si parla di circa 4 milioni di euro, in questo caso parliamo di risorse pari a circa 160 mila euro. Sono tasselli importanti che mettiamo a disposizione anche di comuni che hanno una loro identità, che hanno una loro importanza e soprattutto puntiamo a far sì che la popolazione rimanga anche in territori marginali e montani come sono le caratteristiche anche della nostra regione. Altri progetti in partenza riguardano interventi di riqualificazione del teatro comunale, della cucina presso il forno, oltre al rifacimento di asfalti nelle vie del centro. Inizierà inoltre il restauro della piaggione e l'obiettivo sarà a breve anche la riqualificazione di piazza Umberto I.